Quante volte hai sentito dire che in uno sport o in una situazione di alta prestazione è necessario restare nel presente? Ebbene oggi questa faccenda ce la spiega Novak Djokovic, uno dei più grandi tennisti della storia e non solo uno dei più grandi sportivi di sempre. Djokovic ci spiega come restare nel presente e ci rivela, ci svela uno degli errori più importanti all'interno dello stato di flow e della pratica della meditazione. Oggi quindi mettiamo insieme tennis e cervello. Ciao a tutti da Gennaro Romagnoli, psicologo psicoterapeuta, da anni mi occupo anche di prestazione, di alta prestazione e in particolare l'episodio che state guardando in questo momento è tratto dal nostro podcast dalla puntata 494, in particolare abbiamo nominato questi video gli extra degli episodi del podcast, oggi dedicato alla pratica meditativa di Novak Djokovic. Perché? Perché in realtà il nostro caro Novak è un grande meditatore, ne parla davvero da diverso tempo e ultimamente sta girando una clip molto interessante all'interno della quale sembra che sfati il mito del restare nel presente. Ma in realtà non è proprio così, ci svela il principio attivo di ogni pratica meditativa e in realtà anche della prestazione ed è qualcosa che scoperchia un po' il vaso di Pandora che in questi anni è emerso all'interno delle pratiche sportive dove si parla dell'unione di meditazione e pratica sportiva. All'interno di questa clip che ora ti faccio vedere. Well, I practice a lot of mindfulness, so, you know, meditation, but I focus on my breathing and I focus on being in a moment and what needs to be done next moment, which is playing the right shot, positioning myself well on the court and just focusing on executing the point right. And that's much easier said than it's done. And I think anyone who plays a sport in the highest level will understand that. It just takes years of devoted practice mentally, not just physically. And you have to do it. You can't expect others to really fix your emotional or mental issues. Il nostro amico Novak sta spiegando, immagino ad un allenatore, ma non lo so con precisione, esattamente che cosa intende lui per restare nel presente. Dice tutti gli allenatori o la gente, i coach ti dicono che devi restare nel presente, di non pensare al futuro, ma di pensare colpo dopo colpo, quando in realtà la nostra mente non può fare a meno di viaggiare nel tempo. E ci svela qualcosa che i praticanti di meditazione e gli utenti della nostra applicazione Clarity conoscono molto bene, dato che è il primo passaggio del nostro percorso gratuito di 10 giorni per imparare a meditare, cioè il fatto che la nostra mente è una macchina del tempo. In questo momento tu riesci a comprendere le mie parole partendo da ciò che conosci, cioè da aspetti del passato, e immaginando che cosa accadrà in futuro, cioè simulando ciò che sta per accadere. La nostra mente, o meglio il nostro cervello, non voglio fare questa distinzione, perdermi in questa distinzione, ma è essenzialmente una macchina predittiva che continua a predire le cose sulla base di cosa, su ciò che ha vissuto precedentemente. E dunque nel momento in cui noi ci sediamo, ad esempio nella pratica della meditazione, ci rendiamo immediatamente conto che la maggior parte dei pensieri che abbiamo sono rivolti o al passato o al futuro, ma molto poco rivolti al momento presente. E la pratica della meditazione è essenzialmente la capacità di restare nel presente e renderci conto di quando si attiva questa macchina del tempo. Ed è esattamente come Novak Djokovic spiega la pratica della presenza all'interno di questo video, dove dice non conta il fatto che tu ti possa perdere nel passato o nel futuro, è inevitabile, la nostra mente è una macchina del tempo, ciò che conta davvero lui la chiama il recovery, cioè la capacità di renderti conto che non sei più nel presente e tornare accettando ciò che è accaduto a fare il tuo gioco, cioè ritornare nel presente. Devo ammettere che quando mi avete segnalato questo video, che prima è stato commentato da Marco Montemagno ma poi da tanti altri influencer, mi ha fatto un po' ridere perché alcuni di essi hanno iniziato quasi a dire vedi, vedi che la cosa di stare nel presente è una cavolata, la meditazione per la pratica sportiva è una cavolata. In realtà la descrizione che fa Djokovic è esattamente la descrizione che facciamo della pratica della meditazione di consapevolezza, che è la pratica della meditazione, vorrei ricordarlo a tutti, più studiata, non è che quando leggete meditazione valgono tutte alla stessa maniera, la più studiata è la pratica della meditazione di consapevolezza che nella tradizione si chiama vipassana e che diciamo così per il grande pubblico oggi prende il nome di mindfulness. Ebbene questa capacità di restare nel presente si acquisisce proprio riconoscendo che non siamo più nel presente ed è proprio qua che stiamo facendo davvero lo sforzo, chiamiamolo così, psicologico più importante. Lo sforzo psicologico più importante che tu possa fare mentre pratichi la meditazione non è restare nel presente ma è accorgerti di quando non ci sei più e vorrei farti notare che questa non è una, come potremmo dire, una distorsione semantica, non è solo un gioco di parole ma è essenzialmente ciò che ti serve per restare davvero presente in ogni istante. Immagina in questo momento di essere un po' distratto magari da dei pensieri che hai su ciò che accadrà dopo o su ciò che è accaduto prima. Questo ti impedirebbe di ascoltare con attenzione il video che sto facendo. Immaginiamo anche che le parole che io ti sto dicendo in questo momento siano per te essenziali perché magari devi fare qualcosa ad alta prestazione tra poco, un esame oppure una prestazione sportiva e dunque vuoi essere particolarmente attento a ciò che ti dico. Ora immagina che per qualche istante la tua mente vada nel passato, nel futuro e quando questo succede accade una cosa un po' particolare, è come se un velo si frapponesse tra me e questo schermo che stai guardando in questo momento impedendoti di ascoltare attentamente tutto quello che dico. Qualcosa lo cogli ma non riesci a cogliere davvero il messaggio, un po' come quando stai leggendo e ti perdi e ti chiedi ok a che punto ero? Sappi che è del tutto normale che accada anche mentre guardi questo video. Perché succede? Perché la nostra mente è stata progettata per saltellare continuamente perché se i nostri antenati si fossero fermati un po' troppo tempo a mirare non lo so un tramonto o una rosa sarebbero stati sbranati da un animale feroce e dunque la nostra attenzione è come programmata per continuare a fare questi salti tra avanti e indietro nel tempo e anche all'interno del ambiente che ci circonda. Dunque che cosa succede? Immagina che per un periodo, mettiamo 5 minuti, 2 minuti, tu ti sia completamente perso. Immagina che ogni volta che ti perdi tu ti dia uno schiaffo. Uno schiaffo perché è una cosa importante, devi restare nel presente. Ebbene secondo te ogni volta che ti perdi mentre leggi se ti dai uno schiaffo quando ti perdi aumenti o diminuisci la probabilità di tornare a leggere quel testo. Ebbene te lo dico io ma immagino tu l'abbia già capito. Diminuisci la probabilità di tornare a guardare il video, diminuisci la probabilità di tornare a leggere. Ogni volta che perdi un punto e ti fermi eccessivamente a pensare a ciò che è accaduto e ti punisci senza accettarlo, senza la capacità di lasciare andare quella cosa lì, e adesso vediamo un po' come si fa, ecco che diminuisci la tua capacità di giocare il punto successivo perché è come se restassi incastrato nel tuo giudizio personale. Non è come se resti incastrato nel tuo giudizio personale. Quando inizi a trattarti male, quando ti dai questo schiaffo psicologico perché ti sei perso, perché hai perso il punto, perché eri distratto, ecco che in realtà attivi maggiormente un sistema interno che si chiama sistema di attacco fuga, che ti prepara appunto l'attacco fuga, ma che in gara e nella prestazione ti serve poco, a meno che tu non debba combattere contro un gigante assassino. Ti serve poco perché più sei nello stato di attacco fuga e meno hai accesso alle tue risorse fisiche e cognitive. In altre parole è come se funzionassi con il freno a mano tirato. Dunque qual è la soluzione? Ebbè la soluzione è imparare a riconoscere quando non sei più nel presente. Non quando sei nel presente, quando non sei più nel presente. Non hai bisogno di riconoscere quando sei nel presente. Quando sei lì nel pieno della prestazione non hai bisogno di riconoscerlo. Giochi e basta. Quando sei preso dal video che stai guardando in questo momento non hai bisogno di sapere se sei nel presente. Sei preso dal flusso di questo video. La cosa importante è accorgerti quando non sei più nel presente e come dice Novak, accorgertene e accettarlo. E questo stato di accettazione è la cosa più difficile da fare insieme allo stato di riconoscimento. Quindi è come se fossero tre le parti essenziali. Il riconoscere che non sei più nel presente, l'accettare e il perdonarti perché non sei più nel presente e tornare intenzionalmente a fare ciò che stavi facendo. Ora se per caso avete letto il mio primo libro Facci Caso oppure avete guardato la puntata dedicata all'attenzione sostenuta, sapete che questi tre sono proprio tre reti neurali che abbiamo nella nostra bella testa. Che sono proprio tre reti neurali separate che si allenano separatamente. riconoscere, accettare e diventare più gentili e tornare a fare quella cosa lì. Sembra semplice, ma in realtà questo piccolo esercizio, quello di riconoscere, accettare e tornare nel presente intenzionalmente, attiva queste tre aree, diciamo così, tre circuiti neurali che ti consentono proprio di diventare molto più brava, molto più bravo a essere consapevole di ciò che sta accadendo. Come possiamo allenarlo? Beh, giocare a tennis potrebbe essere un'idea, ma ti assicuro che non è l'idea più corretta se vuoi imparare a farlo bene. Se vuoi imparare a farlo bene devi sederti in meditazione. Perché? Perché normalmente i nostri pensieri, i nostri giudizi, il nostro modo di trattarci non sono così semplici da riconoscere. Non è così semplice attivare il campanello di riconoscimento, non è così semplice accettare e non è così semplice lasciare andare per tornare indietro a ciò che stavamo facendo. Per fare queste tre cose ti serve una forte metacognizione e questa metacognizione la puoi costruire essenzialmente praticando la meditazione di consapevolezza tutti i giorni. Ebbene sì, hai capito bene, tutti i giorni, esattamente come un allenamento, ma posso garantirti che è in grado di cambiarti la vita. Se non mi credi vai a fare un corso di mindfulness dalle tue parti, esistono gli MBSR, i Mindfulness Based Stress Reduction, di cui a me non ne viene in tasca assolutamente nulla, vai a farli per otto settimane, poi torna qua e fammi sapere come ti senti. Se invece ti piace il mio modo di divulgare, ti fidi del mio parere e ti piace la mia voce, scarica la nostra applicazione per imparare a meditare gratuitamente, si chiama Clarity, all'interno della quale potrai trovare molti percorsi. Oppure, se sei davvero una persona coraggiosa, entra a far parte del nostro Master in Meditazione Avanzata, un corso online che ti accompagna per tre mesi alla scoperta e all'apprendimento della vera meditazione di consapevolezza scientifica. Bene, detto questo, ancora una volta è interessantissimo vedere come i campioni, a modo loro, abbiano capito delle cose che altre persone non hanno capito assolutamente. Se vai in giro per il web, troverai tante persone che cercano di spiegarti come restare nel presente dicendoti cose del tipo, devi prima eliminare tutti i pensieri negativi, lasciare andare il passato, queste sono assolutamente delle cavolate. Fammi sapere che cosa ne pensi, fammi sapere se anche tu pratichi la meditazione, lascia un commento se non ti sei ancora iscritto, se sei una brutta persona, iscriviti subito al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Lo sapevi che la meditazione può portare nella tua vita una serie lunghissima di benefici scientificamente dimostrati? Beh, ora lo sai. E se vuoi praticarle in modo semplice e costante, ho creato un'app gratuita per te. Puoi trovarla sull'Apple Store o sul Google Play Store oppure cliccando sul link in descrizione.